Una delle grosse novità dell'ultimo triennio 2018-2020 delle semi-instrument, soprattutto di fase 2, è la previsione di un secondo step di valutazione per le proposte di fase 2 in cui, dopo le valutazioni da remoto, i più bravi sono invitati a Bruxelles a fare delle interviste e quindi a incontrare un nuovo pool di esperti, per lo più investitori privati e sostanzialmente l'azienda ha la chance di giocarsi in mezz'ora la possibilità di essere finanziata o meno. A Bruxelles si va a evidenziare la cosiddetta business opportunity, la remunerabilità dell'investimento che stiamo chiedendo di fare alla Commissione, presentando un team multidisciplinare, tecnico, gestionale, execution, business, vendite internazionali e chiaramente spingendo la nostra innovazione come qualcosa di fortemente discontinuo, che produce discontinuità rispetto all'esistente.